La giornata internazionale della solidarietà umana è stata sancita dall'Assemblea delle Nazioni Unite ed è stata condivisa dal Lions International, istituendo per oggi la giornata della solidarietà del Lions. Si è pensato di dedicarla ai migranti, considerata l'importanza del fenomeno migratorio. Tutto questo in linea con il motto del governatore del distretto 108YB, avvocato Danilo Macaluso, ascolto, comprensione e azione, e di concerto con il centro studi Grasso, diretto dal dottore Enzo Leone, past governatore. Il Lions Club di Alcamo lo ha fatto, istituendo un momento di condivisione e di scambio di auguri con i migranti presenti presso l'Istituto Comprensivo Bagolino, dove nelle ore pomeridiane frequentano le lezioni per l'apprendimento della lingua italiana, sia a livello elementare che a livello medio. Tutto questo nell'ottica delle azioni di servizio e di solidarietà per la comunità che il Lions International promuove e che contraddistinguono proprio l'identità dell'associazione.